del resto bellissimo l'aneddoto che si racconta di martucci che avendo invitato il maestro brams a bologna al conservatorio all'arrivo del maestro si inginocchia certo un senso enorme di ammirazione l'ammirazione che aveva per brams certamente ma anche per la musica sinfonica tedesca in un italia che in quel momento faceva l'opera c'era verdi c'era il giovane puccini l'ammirazione è anche quella che ha fatto nascere il rapporto fra me e maestro pappano ci siamo conosciuti al tuscan sun festival e in quell'occasione suonavamo il trio per otto di brams grande grande ammirazione poi è nata una grandissima amicizia ed oggi maestro pappano per me e toni luigi grazie sì questo rapporto si è costruito anche un altro modo sei il primo violenzialista dell'orchestra dell'accademia nazionale di santa cecilia e ci troviamo spesso insieme facendo musica però il fatto che siamo stati in giro in tournée quasi per anni suonando le le sonate di brams per tutta l'italia questo è stato per me un'esperienza meravigliosa per fare musica con te e di approfondire il lavoro su queste queste musiche che sono sì belle però anche complesse vengono vissuti non è una cosa che la suoni una volta e allora facciamo un disco no no il disco è il frutto di un lungo lavoro di laboratorio di maturazione insieme davanti al pubblico studiando insieme da soli e questa musica richiede una convinzione una drammaticità una liricità però è musica da salotto musica da salotto è il salotto dove ci siamo ritrovati per compiere il disco nel nostro viaggio italiano ci siamo fermati in toscana nella meraviglia della val d'orcia dove un nostro amico comune ha messo a disposizione la sua bellissima villa con un meraviglioso salotto la musica da camera di brams e di martucci e musica da salotto nella pace nella quiete nella serenità di questa vallata abbiamo studiato abbiamo registrato e abbiamo dato vita al abbiamo suggellato gli anni di viaggio questa villa ovviamente c'è un pianoforte storico un pianoforte meraviglioso messo a disposizione per la registrazione che ha visto il maestro pappano lavorare sodo sì io ero affascinato da questo pianoforte un stimeway del 1878 un pianoforte molto particolare con un grandissimo suono in particolare nei bassi però con dei pianissimi da fantasmi l'unica cosa che l'unico modo in cui posso descrivere questo però cioè l'aspetto coloristico era talmente ricco per me allora era una gioia malgrado il fatto che questo pianoforte essendo un mostro quasi molto grande e da padroneggiare questo strumento e di farlo veramente suonare come volevo io ho dovuto veramente lavorare molto però per me che non sono un filologico per me era veramente affascinante l'esperienza musica da salotto fatto in un salotto bello no? bellissimo